La certificazione verde Covid-19 è un documento che attesta la vaccinazione, un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti o la guarigione dal coronavirus. Quando sarà disponibile si riceverà un sms o una mail. A quel punto sarà possibile scaricarla attraverso il sito dedicato, il fascicolo sanitario elettronico regionale, l'app Immuni e presto anche tramite l'app Io. Il sistema sarà a pienamento operativo dal 28 giugno. Chi non è pratico con la tecnologia si potrà rivolgere al medico di base, ai pediatri di libera scelta e alle farmacie. La certificazione servirà per partecipare a eventi di vario tipo, fiere, concerti, gare sportive, feste post-cerimonie, ma anche per le visite nelle RSA. E dal 1 luglio faciliterà gli spostamenti all'interno dell'Unione Europea e dell'area Schengen. Il documento, che conterrà un QR code da mostrare al personale preposto ai controlli, sarà valido 9 mesi dal completamento della vaccinazione, 6 mesi dalla guarigione e 48 ore in caso di tampone. Domani saranno comunicati nuovi cambi di colore delle regioni. Da lunedì tutta l'Italia potrebbe passare in zona bianca, ad eccezione della Valle d'Aosta, dunque riaperture anticipate e niente coprifuoco, che in ogni caso, sempre da lunedì, sarà abolito ovunque. Restano però le misure basilari di prevenzione, mascherine, distanziamento, aerazione del locale al chiuso. Prosegue intanto il confronto tra le forze politiche sulla proroga dello Stato d'emergenza e sull'uso.